Ciao, sono WittonTube e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi porto con me nel laboratorio di Bunting Guitars, costruttore artigianale di gitarre nel nord di Israele. Bunting è un laboratorio attivo già da una decina d'anni e costruisce strumenti per il pubblico americano e il pubblico europeo. Ho tra le mani il modello Amarok, che è il modello che riprende la classica Gibson Les Paul. Da un punto di vista di design abbiamo qua una curvatura meno accentuata e un peso decisamente più umano rispetto alle classiche Les Paul. Vediamo com'è costruita questa chitarra. Da un punto di vista dei legni abbiamo un body costruito in cedro spagnolo, che è molto più leggero del mogano classico, ma simile nella risonanza. Abbiamo un top in acero bosniaco e una tastiera in palissaldo indiano. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere e passiamo un pochino ai suoni. Basta con le chiacchiere. Basta con le chiacchiere. Basta con le chiacchiere. Basta con le chiacchiere. Basta con le chiacchiere.